L'attesa era quasi finita, o meglio, sarebbe dovuta finire oggi, ed invece bisognerà aspettare ancora un po', almeno sino al 12 aprile prossimo. E questa è infatti la nuova data fissata per la tanto sospirata riapertura di via Biceglie ad Andria, chiusa per lavori dal 2 marzo scorso. Quelli per la realizzazione del nuovo tronco pluviale, che dovrebbe risolvere definitivamente il problema allagamenti su una delle arterie più trafficate della città. Un'opera necessaria, ma che ha creato inevitabilmente notevoli disagi agli automobilisti per via del grande afflusso di veicoli registratosi sulle altre strade del centro, soprattutto nelle ore di punta, ma anche a tanti commercianti della zona che negli ultimi tempi hanno visto diminuire drasticamente il loro giro d'affari. La pazienza, inizialmente, non sarebbe dovuta andare oltre il 20 marzo, giorno previsto per la conclusione dell'opera nella prima ordinanza dotata dal Comune, poi la prima proroga, il 7 aprile. Motivo? Innanzitutto un terreno particolarmente roccioso che di certo non ha agevolato i lavori, ma anche la verifica da parte di Acquedotto Pugliese della tenuta degli impianti di allacciamento diffusi e le sostituzioni delle reti idrico-fognanti nel tratto interessato. Infine, un altro slittamento comunicato dal Servizio Traffico e Mobilità del Comune di Andria dopo la richiesta della ditta esecutrice dell'opera del collettore pluviale. Questa volta non si dovrebbe aspettare molto, almeno se tutto andrà, secondo i piani. La nuova data è quella del 12 aprile, quando la strada sarà finalmente di nuovo percorribile. Rimarrà, sino al 29 di questo mese, il solo divieto di sosta è fermata sul tratto compreso tra via Maraldo e via Antonio da Villa, per consentire gli allacci delle catitoie al collettore pluviale. Poi, tutto come prima, o almeno così si spera.